Intanto in classe tocca a due ragazzi fare lezione Mi raccomando Cardamone, sia un bravo insegnante O i ragazzi ho calze bravi perché sennò succede come prima Ma qualcuno ha intenzione di boicottarli Fate come ha fatto lui con me Come hanno fatto tutti e due questi strumenti Io ho contato a lanciare solo le penne addosso, non me le dite cassino Che c***i ridi, sono seria eh Ma stai stufato tu con questo comportamento dell'efficiente E tu scusa prima, tu e il tuo amico prima Ma guarda che io quello che hai spiegato io l'ho capito tutto E questa parola che è tranquilla Ma basta cosa, ma l'hai visti tu prima E io devo portare rispetto a sta roba Ma chi ti ha questo rispetto? È tua questa roba Penso che Martina sia una persona molto maleducata Eugenio Montale Nasce a Genova nel 1800 Un attimo Vince il premio Nobel per la letteratura Nel 1975 Vi pare lo stesso ambiente in cui stavamo lavorando noi prima? No perché non sapevate spiegare Io ho preso tutti gli appunti molto lineari Dammeli, dammeli, lancia Partola qui Allora regà Dagli appunti bellissimi di Mario Nasce a Genova nel 1896 Prego, prego, continuate L'osso di seppia Una delle opere di Montale È la rappresentazione della sofferenza Ah ma sta spiegando lei Eh sì perché il signor Tricca urla E non si capisce niente quando parla È agitato? Beh ha preso l'iniziativa Sì Beh magari Si sta un po' più composto Però bene Grazie Magari siete voi che siete stupide È un magari sei tu che prima vi siete comportati male con Martina e Asia Raga lasciatelo parlare Che c'è il cervello grande così Ogni parola che dice mi si rimpicciolisce Dato che il mio cervello è stupido Magari non mi servono neanche i miei appunti Stupida Adesso basta Mi scusi mi ha insultato Adesso basta Perché non può dirgli niente? Se insulto io qualcuno vado nei casini Guardi Sto cercando di mettere pace Eh non mi pare proprio finché Uno mi insulta E lei lo lascia insultare Da quando sono entrato Io vedo una Brondin molto aggressiva Martina è piena di rabbia Mostrate di seguire la lezione Mostrate di essere Brondin la smetta immediatamente Ero entrato dicendo Ma che bella atmosfera E poi mi sono trovato in mezzo alla giungla Io adesso vi lascio in pace Ma Dimostrate di essere persone civili Buon lavoro Grazie Arrivederci Il professor Maggi è uscito dalla classe Non c'è più nulla che possa frenare La smania di vendetta Montale Ha due opere più grandi Eh? Ha due Raccolte poetiche più importanti Io sono rimasta a Montale Un secondo Il cognome della sposa qual è? No Claudia Danzi Scusa Mario Così che hai detto prima? Danzi Che spiegavano male Io vi sto facendo una domanda E voi non sapete rispondere Brusilla Danzi Oh e te state calmo eh Vieni dalla capovilla Ciao Wonna Ciao 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 Grazie a tutti